Nuova vita per il chiosco del parco di Monte Oliveto, in abbandono ormai da oltre tre anni, riaprirà i battenti la prossima primavera. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, questa mattina, durante un sopralluogo al cantiere insieme ai soci della Monte Oliveto SRLS, la società formata da operatori già attivi a Pistoia nel campo della ristorazione, a cui è stato affidato il servizio di bar-ristorante in concessione decennale. Nell'offerta è compresa anche la sorveglianza notturna del parco. Oltre a questo poi c'è tutta una serie di iniziative, di iniziative socio-culturali che porteremo avanti e che speriamo facciano rivivere giorni felici a questa zona di Pistoia che purtroppo negli ultimi anni è stata abbandonata, dimenticata. È un progetto molto ampio, a 360 gradi, che deve e vorrà coinvolgere dalle famiglie alle persone normali che vogliono passare più una giornata ai bambini, agli anziani, ai turisti, quindi insomma c'è bisogno di tante idee, di tante iniziative. Il chiosco sarà aperto tutto l'anno con un programma di iniziative pensato per le famiglie e i bambini e che nelle intenzioni c'è anche di rendere il parco più vivo e soprattutto più sicuro. Il parco è molto frequentato da famiglie e da bambini ma se non c'è un presidio costante purtroppo non si risolve nulla, nemmeno installando tantissime telecamere. Presidio, uguale sicurezza, è una zona anche particolare perché alle spalle del chiosco comunque c'è una palestra importante, molto frequentata, quindi può servire anche come punto d'appoggio. Siamo contenti, è un primo segnale, c'è voluto il bando, c'è voluto molti tempi per la progettazione, un po' di burocrazia ma insomma alla fine con grande fatica ce l'abbiamo fatta e speriamo quest'estate appunto che sia aperto, funzionante e sia apprezzato da le famiglie. Le caratteristiche del bando che cosa richiedevano? Si incentravano sugli orari, chiedendo una ampiezza di orari per l'apertura, chiedevano che comunque si facessero carico i titolari del chiosco anche di una manutenzione di una parte del parco antistante al chiosco, quindi è importante dare una mano anche a manutenerlo, credo che loro vorranno installare anche qualche gioco. Prima hai voluto dare un piccolo esempio con una partitella a calcio? Sì, nell'attesa ho trovato ragazzi che giocavano a pallone e mi sono fermato, quando sono un po' bambino, quando si vede il pallone non ci si trattiene. Ma è quello che vorrei vedere, qua anche quella è una zona che dovrà in qualche modo essere riqualificata, purtroppo tempestate di scritte, però come si vede se un luogo viene vissuto, viene riqualificato diventa immediatamente anche con poco un luogo di aggregazione.